Il 2019 in Piazza Cavalli si è concluso oltre alle più erose aspettative, con ben 4000 cittadini arrivati per festeggiare il Capodanno. La serata è iniziata verso le 22.30 con il gruppo dei Max Brando Band in Pedana. Tantissime le famiglie che si sono scatenate e hanno ballato al ritmo della musica anni 60 e 70. Numerosi poi giovani che non hanno voluto mancare per ascoltare e ballare le musiche del DJ Comollo che si è esibito come da programma dalle 23.30. Il DJ di Radio 105 sul palco ha regalato magliette della radio e coinvolto i ragazzi aspettando la mezzanotte per il fatidico conto alla rovescia per il 2020. Dopo un breve passaggio in cui sul palco il DJ ha suonato insieme alla band e tutti i presenti in piazza hanno ballato festanti, la musica è continuata fino al termine della serata. Grande la soddisfazione dell'organizzazione, la Mood Eventi, che ha già nel mirino la prima iniziativa del 2020, il prossimo 6 gennaio sempre in piazza Cavalli con aspettando la Befana.